Buongiorno ragazzi e bentornati a un nuovo video sul Milan femminile. Allora, come sempre, ovviamente, prima di parlarvi della partita di ieri, vi ricordo alcune cose importanti. Allora, innanzitutto mettete like a questo video e seguite il nostro canale YouTube AC Milan Inside. Poi vi ricordo anche di seguire tutti i nostri social, quindi Instagram, Twitter, Facebook e Twitch, sempre AC Milan Inside. e di andare a vedere anche il nostro sito internet www.acmilaninside.com dove troverete tutte le notizie relative al Mondo Milano a partire dalla prima squadra fino alla primavera. Quindi sarete sempre aggiornati su tutto. Allora, ora parliamo della partita di ieri. Si è giocata Empoli Milan, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A femminile e bisogna dire che finalmente abbiamo rivisto il Milan che per un mese e mezzo avevamo perso. Grande prestazione di tutta la squadra, gruppo perfetto, singoli che hanno giocato alla grande. La partita è terminata 3-0 per le ragazze allenate da Mr. Maurizio Ganz con gol di Bergamaschi e la doppietta di Tomas. Le giocatrici si sono espresse ad altissimi livelli. Infatti era quasi un mese e mezzo che non vedevamo una prestazione così bella, così forte. Ovviamente c'è stato un gruppo proprio che ieri si è rimesso insieme ed ha iniziato a rigiocare a calcio come ci avevano dimostrato fino alla partita precedente alla Lazio. Perché da quella partita con la Lazio, sì, vinta 3-1, si era cominciato a intravedere un pochino di difficoltà. L'assenza anche di Martina Piamonte per un mese ha fatto anche il resto perché ieri infatti Martina è partito dal primo minuto ed si è rivisto il gioco fatto di sponde, faceva salire la squadra. Ne hanno beneficiato in pratica tutta. La partita si è messa subito bene perché dopo due minuti Bergamaschi ha sfruttato su un cross di Agard un'indicensione della difesa toscana ed è stata più veloce a insaccare la palla in rete alle spalle del portiere dell'Empoli. Dopo poco, quasi 15 minuti, Tomas ha raddoppiato su una bellissima partita da centrocampo da Adami che ha dato palla a Guagni sulla fascia destra. Guagni ha messo palla al centro dove Grimshaw da sola è stata bravissima a servire l'assista Tomas che a porta vuota ha messo in rete la palla del 2-0. La terza rete è arrivata al 55esimo, quindi dopo 10 minuti dall'inizio al secondo tempo sempre con Tomas è sempre su un assist di Tuccieri e quindi in pratica si è chiusa la partita partita che non è mai stata in discussione anzi, dobbiamo dire che il Milan l'ha dominata dal primo alla fine. Ora si si ferma perché ci saranno le pause per la nazionale ci sono le qualificazioni al Mondiale 2023 dove le varie ragazze andranno nei ritiri delle proprie nazionali e quindi si rigioca tra due settimane. Non è cambiato niente in classifica perché il Sassuolo ha vinto 3-0 a Pomigliano la Roma ha battuto in casa l'Ella Sferona per 7-1 e il Milan quindi ha vinto con l'Empoli 3-0 quindi in pratica siamo rimasti sempre al terzo posto in classifica con 5 punti di distacco dalle giallorosse. bisogna sempre crederci aspettare in un passo falso delle capitoline per approfittarne ovviamente il Milan visto ieri fa ben sperare però c'è anche da sperare nei risultati delle altre squadre è sempre difficile però fino a quando la matematica non condanna la squadra rossonera bisogna sempre crederci. Come dicevo prima il rientro di Martina Piamonte ha beneficiato a tutti perché Martina fa un lavoro sporco in attacco dove non sembra però si pratica è un lavoro che beneficia di cui me ne beneficia tutta la squadra perché lei la fa salire fa sponde assist fa sportellato con i difensori avversari infatti anche il centrocampo ieri con Grimshaw che ha fatto una soltuosa partita sia in fase difensiva che in fase offensiva anche a Dami in difesa ricordiamo che non era semplice perché mancava il perno Codina Panedas sostituita alla grande da Arnado Thir e che altro dire Giuliani non è stata quasi mai impensierita in porta quindi lo strapotere rossoneo ieri ad Empoli non era facile andare a vincere ad Empoli ricordiamo che l'Empoli in questa stagione è stata l'unica squadra che ha battuto la Juventus anzi diciamo nelle ultime quasi tre stagioni perché la Juventus non perdeva da quasi 38 partite in campionato e ha perso 2-0 ad Empoli quindi non era semplice per il Milano non è un campo semplice è quello dell'Empoli e il Milano ha dimostrato invece ieri forza e carattere vincento questa partita proprio di forza proprio dall'inizio alla fine partita subito alla grande mettendo sotto l'Empoli dal primo minuto facendo capire che eravamo entrati in campo con la mentalità giusta per vincere la partita giocando bene giocando alla grande questo è il Milan che eravamo abituati a vedere da gennaio in poi purtroppo l'ultimo mese non è stato così i pareggi con Sassuolo Napoli e Roma hanno un po' distaccato dal secondo posto in classifica e quindi ora siamo lì a rincorrere però se andiamo avanti con questo gioco va bene sperare quindi possiamo dire la nostra anche fino alla fine del campionato io concludo come sempre ricordandovi quello che vi ho già detto all'inizio allora innanzitutto mettere like a questo video e quindi seguire il canale youtube di AC Milan Insight poi vi ricordo di seguire tutti i nostri social quindi da facebook a instagram da twitch a twitter e seguire il nostro sito internet www.acmilaninsight.com dove vi aggiorneremo 24 ore su 24 su tutto quello che riguarda il mondo Mila anche con interviste esclusive ad ex calciatori giornalisti tifosi VIP eccetera eccetera grazie a tutti buona giornata e sempre forza Milan grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti